allora oggi sono andato a mozzata in macchina e poi sto cercando di fare un anello su nel parco di appiano gentile ho scaricato una traccia perché la mia non lo so cosa è successo non è più un gp che si è diventato un gp di gdp e non me la scarica però ho già sbagliato tre o quattro volte adesso vediamo un po' se riesco ad andare sulla strada giusta grazie a tutti Grazie a tutti.